la banchina prenderà queste proposte che noi abbiamo fatto. Spero anche che rimangano nei decibel consentiti i nostri stessi artisti perché sennò avremmo fatto un'autogola anche perché abbiamo fatto fare un'indagine a Gabbetti e allo centro studio di Gabbetti che dice che gli immobili irrorati da musica troppo violenta si svalutano, quindi questa è una situazione nuova che noi abbiamo ben identificato e fotografato 3-4 mesi fa e quindi non vorremmo essere noi con causa di questo. Io devo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all'organizzazione in particolare un ringraziamento alla famiglia Marsili che da tanti anni è concessionaria di questa banchina con la loro associazione della Belladoro che immediatamente ha recepito quelle che erano le nostre proposte e c'è stata un'ottima collaborazione in particolare tra Elisabetta e Lorenzo Marsili per tutto l'impegno. Quindi vi ringrazio, ringrazio chiaramente il presidente che è qui e tutte le autorità politiche che sono intervenute Speriamo che il nostro programma abbia successo. Grazie, grazie tanto.